Si è tenuta nella magnifica cornice del Gran Teatro Pucinitore del Lago la presentazione ufficiale della 66esima edizione della Viareggio Cup, torneo mondiale di calcio primavera che si svolgerà dal 3 al 17 febbraio. Il presidente del Cigici Alessandro Palagi ha annunciato che il monopolio di Stato ha raccolto la richiesta della società organizzatrice di non inserire le gare del torneo nel circuito delle scommesse. Alla scena di gala del 3 febbraio alla capalina di Viareggio saranno premiati il presidente della LMD Carlo Tavecchio, il giornalista Rai Gianni Cerqueti, l'allenatore del Torino Gian Piero Ventura e il dottor Michele Gemignani. Il giuramento sarà letto dal capitano del Livorno Andrea Luci prima della gara inaugurale fra i Napoli e i campioni in carica dell'Underlet, partita che aprirà il torneo lunedì 3 febbraio alle 15 alle stadio dei fini di Viareggio. Mercoledì 12 febbraio inoltre alle 15 allo stadio Giovanni Burriano Terme la Coppa Carnevale ospiterà l'amichevole tra l'Under 16 Azzurra e i parietà della Nazionale Macedone.